Questo descrittore monitora la presenza di contaminanti nell'ambiente marino affinché gli effetti indotti da questi non determinino impatti significativi o rischi per l'ecosistema marino. Le sostanze investigate includono composti sintetici come i pesticidi o gli antivegetativi, composti non sintetici come i metalli pesanti o gli idrocarburi ed altre sostanze cosiddette emergenti come gli antibiotici e i prodotti farmaceutici. L'immissione di queste sostanze nell'ambiente marino, per la maggior parte identificate come pericolose dalle principali normative europee, può avvenire sia attraverso fonti naturali sia attraverso attività antropiche con modalità dirette o indirette, attraverso fiumi, estuari e deposizione atmosferica. Ad oggi la conoscenza dei livelli di contaminanti nell'ambiente marino e dei suoi reali effetti sugli organismi non ha ancora raggiunto livelli adeguati.